A ora luogo il passaggio di consegna dalla bandiera tra il direttore uscente, generale di brigata Mauro D'Amico e il direttore subentrante, primo dirigente di polizia penitenziaria, dottor Augusto Zaccariello. A me la bandiera. Presetto... Onore alla bandiera del gruppo dell'Ateo Mofile. La bandiera del gruppo dell'Ateo Mofile. Onore alla 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 bandiera del gruppo dell'Ateo Mofile.